Con il suo fisico possente e lo sguardo serioso, farebbe quasi paura ad avvicinarlo, e invece, a dimostrazione che a volte l'apparenza inganna, lui è buono e dolce, proprio come il nome che porta, e non farebbe del male a una mosca. Vogliamo parlare di Marron Glassé, castrone da poco al settimo anno di età, neoacquista di Giuseppe Rametta. Una genealogia di sangue blu la sua, con un padre che si chiama Falbra, e scusate se è poco, maschio che porta in alto il nome dell'Italia, con le sue plurivittorie in gruppo 1 e in gruppo 2 in contesti esteri. La mamma, maschera d'oro, è degna di contesti da liste del race, handicap principale, condizionate e con esiti positivi. Basta questo biglietto da visita, per convincere la scuderia Grizzetti Galoppo a investire su Marron Glassé. Il debutto è previsto per il 15 marzo 2009, in quel di San Siro, dove si comincia con un N.P. in Maiden. Cominciano subito per Marron Glassé le trasferte tra Milano e Varese, dove arrivano le prime buone performance, la maggior parte sulla distanza del doppio chilometro giù di lì. Sigillate dalla prima vittoria con Dario Vargiù in handicap a invito sul miglio, proprio nell'ippodromo Lombardo. Seguono ancora Bione Piazze e la replica in tris riservata a Gentleman e Amazzoni, ma stavolta sotto i colori della scuderia di Porzi e Rossi, e in cabina di regia Simona Gervasoni. La giovane Fantina accompagna Marron Glassé in un altro periodo positivo e a calcare anche l'ippodromo di Pisa, con il training di Stefano Botti, che lo prova su distanze più brevi. Intanto si consolida un ottimo feeling con la Gervasoni, che non si accontenta più di montarlo soltanto, ma vuole diventarne la proprietaria. E così è, lo riporta al doppio chilometro e Marron Glassé risponde alla sua fiducia, conquistando spesso i vari gradini del podio, ancora con Stefano Botti e ancora Travarese e Milano. Siamo intanto giunti al 12 marzo 2012, quando va subito a segno in una prova a reclamare dopo uno stop di cinque mesi. Fa bis poco più di una settimana a Milano con Cristian De Muro, dimostrando che ha ancora brillantezza e condizione per fare molto. Ma come capita a tutti i migliori, anche a Marron Glassé si possono concedere anche due buie prestazioni, soprattutto se poi si torna sulla retta via e si conquista di nuovo il podio ancora in tris. Intanto il signor Rametta, che lo seguiva da qualche tempo, matura l'idea di volerlo nella sua scuderia. E se ci sofferma poi a guardare anche solo per un attimo, che nell'ultimo anno, su 15 corse disputate dal figlio di Falbrav, 8 sono vittorie e 3 piazzamenti, non c'è da dargli tutti i torti. Così Marron Glassé lascia il nord. E facendo tappa a capannelle, con una vittoria su All Weather e un'opaca prestazione, prende la strada per la Sicilia e per l'ippodrome del Mediterraneo. Marron Glassé arriva a Siracusa il 16 febbraio. Anche se è un cavallo abituato a viaggiare e affronta comunque un lungo viaggio, arriva dalle capannelle, in quale condizione? Condizione non bella. Muscolarmente un po' distrutto e di conseguenza anche come fegato. Abbiamo fatto degli analisi del sangue e del risultato carico di lattosio. Per cui stiamo provvedendo a curarlo, cercare di far andare via e eliminare questo lattosio con dei farmaci adatti al caso. Il suo fisico postente magari lo aiuterà nella ripresa, a riprendersi più velocemente. E alla luce di questo, quindi la scelta di farlo debuttare subito in una condizionata? La scelta di farlo debuttare in una condizionata non è da me intanto, però a volte si è costretti. In questo caso perché non è qualificato né a reclamare né a vendere, perché vince quasi 10.000 euro e nei discendenti ha una montagna di peso. Per cui c'era questa condizionata così in breve tempo. Abbiamo deciso, siamo arrivati al signor Rametta, che se il cavallo si riprendeva un po', si correva. Come avete preparato quindi questa gara? Ma preparata proprio come si deve non si può, perché stiamo cercando di disindossicare il cavallo. Solo questo, disindossicare con lavoro e con dei farmaci adatti al caso, tipo epagen, erbacolina, dei ringeri, lavaggi e qualcos'altro. È un cavallo che per genealogia ama la distanza, ricordiamo un figlio di Falbrav. Continuerete su questa scia o proverete ad accorciare un po' come ha fatto anche Stefano Botti in passato? No, continueremo su questa scia, uno perché a me i cavalli da distanza piacciono da morire, due perché il cavallo ha queste attitudini, corre bene al 2004, corre bene al 2002, in sabbia, se la memoria non mi incanna, se ha perso una sola corsa, poi le ha vinte tutte con la signorina o signora Gervasoni, che sia, per cui continueremo ad impiegarlo sulla distanza, sia sull'erba che sulla sabbia. Vince principalmente, come lei ha detto, in sabbia, su un terreno buono, anche duro, il tracciato quindi di Siracusa potrebbe agevolarlo? Sì, il tracciato di Siracusa potrebbe agevolarlo, soprattutto la sabbia. Per quanto riguarda la nostra bellissima pista in erba, bisogna vedere se si adatta al nostro duro, ecco. Però io sono contento che già sulla sabbia è un buonissimo cavallo. Caratterialmente come lo definirebbe? Come si pone agli allenamenti mattutini e poi verificheremo come si porrà in corsa? Caratterialmente è un cavallo che potrebbe montarlo un bambino, buono, buono come il pane, sia nel box che in lavoro. Tendenzialmente è un cavallo che se gli fai fare un lavoro tente a scappare, però poi del resto è un buonissimo cavallo, un bravissimo cavallo, oltre che buono. Alla luce dei sei anni, ripresa a pieno la condizione, cosa ci potremmo aspettare da questo Marron Glasset? Cioè, è ovvio che cosa mi aspetto io, cosa si aspetterà a me, ci aspettiamo che il cavallo ci dia delle soddisfazioni. Naturalmente tutte le corse non si possono vincere, però penso che ci darà delle bellissime soddisfazioni questo cavallo. Chiudiamo questa piccola intervista, adesso voglio sapere perché amo i cavalli da distanza? Amo i cavalli da distanza perché il mio primo cavallo, assieme al mio cognato Paolo, è stato Forever in Love, un cavallo che faceva nel 2004. Poi subito dopo abbiamo comprato Pistoli, che ci ha dato delle emozioni e dei piaceri grandissimi. E poi io sono affascinato del French Canava. Per me vincere il French Canava a Siracusa è come gli scecchi vincere un gruppo 1. No, sarò... ma contenderò di poco, però per me il French Canava ha un sapore particolare, più delle liste da Siracusa. Che tattica di corsa ama fare? Normalmente lui è un cavallo che ama andare in testa. Naturalmente se c'è qualcuno che è più veloce di lui, si adegua, si mette secondo, terzo, però è un cavallo che predilige fare le corse di testa. Correre quindi tra i primi? Sì, un bassista veloce.